Le opere che vedremo sono un omaggio alle due figure di cui quest'anno si celebra il 450esimo anniversario dalla scomparsa, cioè Giorgio Vasari e Cosimo I dei Medici, quel connubio di potere e arte che ha reso grande, grandissimo Firenze e Rinascimento. La natività dipinta da Giorgio Vasari è il ritratto di Cosimo I eseguito da Alessandro Allori nell'alvio della politica dell'immagine promossa dai Medici. Sono le due opere che da sabato 9 novembre saranno esposte al Museo delle Terre Nuove in Palazzo Arnolfo a San Giovanni Valdarno. La mostra Giorgio Vasari e la natività alla pittura dei lumi al tempo del duca Cosimo I rientra nelle celebrazioni promosse dalla regione toscana in rapporto con il progetto Arezzo, la città di Vasari. Pochi giorni fa è stata inaugurata ad Arezzo una mostra veramente imponente con tante opere di livello e di pregio internazionale. Noi ne avremo una, anche se più piccola, collegata direttamente a quella di Arezzo. Io naturalmente ringrazio chi ha collaborato con il Comune di San Giovanni Valdarno e con il Museo delle Terre Nuove per l'allestimento di questa importante esposizione, quindi Muse, la regione toscana che ha supportato e sostenuto e contribuito alla realizzazione di questa mostra e naturalmente la Galleria Borghese che ha prestato le due opere e che è il nuovo ente con cui il nostro museo è riuscito ad organizzare una nuova mostra. L'esposizione resterà aperta fino al 12 gennaio 2025. Vuole in qualche modo da una parte continuare la tradizione della funzione espositiva di questo museo ma vuole anche aprire la strada, essere un'anticipazione a quelle che sarà un'esposizione più ampia, nutrita e autorevole che stiamo mettendo in campo per le celebrazioni masacesche.